Allora, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti a questo corso. Allora, oggi parliamo di bot messenger, quindi lo faremo con uno splendido strumento che si chiama Manichat e andiamo a spiegarti proprio, sarà una specie di mini corso che realizzerò in più video per spiegarti come funziona questo straordinario sistema. Questa è la dashboard centrale, diciamo il pannello di controllo iniziale, che Manichat ci mette a disposizione. Qui abbiamo subito la visualizzazione di un menu, quindi abbiamo l'audience, tutte le persone che si iscrivono, abbiamo i growtools che sono strumenti di crescita, la chat live, sono tutte le persone che rispondono al nostro bot, direttamente qui su Manichat, broadcasting, sono i messaggi che noi mandiamo istantanei, quindi creato ora e mandato ora, senza automazione, e qui ci sono le automazioni che poi vedremo. Quello che salteremo nei corsi, che metteremo nei corsi avanzati, sono ADS, i sitting e i template, che sono più, diciamo, particolari. Allora, per vedere l'audience ci clicchiamo sopra e vediamo le persone che si sono iscritte tramite il nostro bot direttamente al sistema. Quello che voglio farti vedere sarà direttamente lo strumento di crescita. Che cos'è? L'strumento di crescita è un sistema che ti consente di creare delle soluzioni, delle landing page. Io qui ne ho create molte, quindi farò vedere qualcosa di pronto, ma per crearla tu devi andare qui su New Growtools e scegliere quello che secondo te fa per te. Allora, abbiamo una barra, una barra alta, che compare nel momento in cui le persone visitano il nostro sito. Abbiamo un riquadro che può apparire in maniera laterale, hai un vero e proprio pop-up che appare direttamente e un altro sistema a piena pagina. Questo è il primo sistema che Manishat ti mette a disposizione. Adesso ne vedremo alcuni. Qui abbiamo un bottone, cioè un bottone. Qui c'è un box che appare all'improvviso, ma quelli che secondo me sono i migliori sono le landing page e i comments. E vedremo perché i commenti di Facebook, quando le persone commentano le nostre pagine, queste automaticamente, solo per aver fatto il commento, si ritrovano iscritti nel nostro bot. Ma una cosa bella è creare le landing page. Poi tutti gli altri li vedremo nei corsi approfonditi di questo mini corso. Landing page, senza che vada a crearne una in questo momento, che se potrei basterebbe cliccare qui sopra. Ok, adesso io ricominciamo, vediamo se... Allora, questa è quella che avevamo inserito adesso. Quindi non mi serve. La eliminiamo. Perfetto, ti farò vedere qualcosa di già pronto. Allora, per esempio, questa è una piccola landing page che funziona molto meglio su Facebook rispetto al prendere la mail delle persone, con il classico formettino dell'autorespondere. Perché qui la persona deve soltanto fare un click. Quindi non deve fare nessuno sforzo, inserire la mail, andare a confermare, nulla di nulla. Lui viene qui, legge quello che abbiamo da offrirgli. È una cosa molto veloce, molto lampo. Quindi le persone poi alla fine cliccano semplicemente sul bottone che vedete qui sotto. Allora, possiamo cambiare tutto del testo, basta cliccarci una volta ed è modificabile tutto. Possiamo inserire un'immagine. L'andiamo a inserire qui sotto, dove c'è proprio il riguadro per l'immagine. Possiamo inserire addirittura un piccolo video. E qui abbiamo, su button text, appunto il testo che viene inserito su Messenger. Io posso mettere ad esempio per farti vedere, ricevere this in the message, però lo metti in italiano, ricevi su Messenger. Vedi, tu puoi scegliere il tipo di testo che le persone, vedi, contatta l'assistenza clienti. Io normalmente metto gestarted, che sta per inizia. Ok? Quando abbiamo fatto tutte le nostre modifiche, possiamo modificare i colori del background, mettere il blu, la sezione larga, media o piccola del bottone, eccetera, eccetera. Quando abbiamo finito, andiamo a cliccare sempre su Save. Ok? Per attivare la landing page, basta lasciarlo su Activa. Se io clicco di nuovo, va su Draft e quindi va in Non pubblicazione. Ok? Poi abbiamo degli altri step. Abbiamo la pagina di ringraziamento, la Thank You, anche questa qui è tutta modificabile. Io ho messo Grazie per il tuo interessamento. Per continuare, clicca sul bottone qui sotto, c'è il Funnel. In questo caso parliamo di Funnel. Posso decidere di mettere, diciamo, di lasciare che le persone vedano questa pagina di ringraziamento. Quindi vado a settarla, metto un'immagine, metto un invito a cliccare sul bottone, oppure un URL di reindirizzamento, come in questo caso. Ok? Posso cliccare su Next o clicco su Optin Activation. Che cos'è? Questo è praticamente il messaggio che noi andremo a creare, il primo messaggio che la persona vedrà nel momento in cui si iscrive al nostro bot. Quindi c'è da un po' di tempo che praticamente ManyChat ha complicato un attimo le funzioni. Qui bastava creare una sequenza e inserirla qui, invece adesso dobbiamo andare a fare tutto in un'area che si chiama Flow, che ritroviamo in area automazione. Ok? Quindi clicchiamo su Open Flow. Confermiamo che lo vogliamo cambiare. E arriviamo in quest'area. Quindi avremo delle... Io in questo caso è già stato impostato, quindi dovrei fartelo vedere direttamente. Vediamo se riusciamo a crearne un altro, come abbiamo fatto prima. All'esempio... Facciamo soltanto l'esempio della landing page. Ok. Andiamo qui. Ok, vedi? Qua ci dà già il messaggio preimpostato, che noi possiamo modificare cliccando su Edit. Vedi? Comunque sia è tutto già riportato in maniera, diciamo, sui Flow, quindi sulle aree modificabili che noi possiamo modificare di questo sistema. Andiamo a cliccare sopra, modifichiamo il messaggio, lo mettiamo in italiano, quindi ti ringrazio per esserti iscritto al nostro bot e puoi inserire anche un pulsante per quanto riguarda, ad esempio, se devi far scaricare qualche cosa, add button, ok? Possiamo scrivere scarica le book gratis, perché si è iscritto al nostro bot. Adesso questo è troppo. Scarica le book e basta. Andiamo a cliccare su Open Website e qui inseriamo l'url di scaricamento della pagina, quindi una thank you page fatta da noi, dove noi andiamo proprio a fare questa cosa qui. E quindi la persona potrà scaricare direttamente le book da questa sezione qui. Clicchiamo su Don per attivarlo e ce lo ritroviamo qui. Questo è solo un esempio. Naturalmente qua ci sono tutto quello che puoi inserire all'interno del testo. Quindi un altro testo, vedi? Possiamo mettere un'immagine e andiamo a cercare l'immagine e la carichiamo. Possiamo fare davvero tantissime cose, poi questo lo vedremo nei corsi più avanzati. Però se abbiamo creato una sequenza, dobbiamo inserire quella sequenza. Adesso ti farò vedere più avanti su Automation come si creano le sequenze, cioè quelle situazioni automatiche che le persone ricevono dopo che si sono iscritte, i messaggi successivi. Quindi come si fa? Si clicca qui, andiamo a cliccare su Action, prendiamo Action, ci clicchiamo sopra, ok, andiamo a determinare l'azione, subscribe sequence, cioè andiamo a farlo iscrivere alla nostra sequenza e qui mettiamo la sequenza che abbiamo. Se noi abbiamo già creato delle sequenze, gli abbiamo sicuramente dato un nome, ok? E ad esempio scelgo questa, perfetto. Una volta che viene inserito, noi non facciamo altro che prendere questo, aspettiamo, lo prendiamo qui, questo lato della freccia, la inseriamo qui, poi andiamo a prendere il next stop qui e lo inseriamo in quest'altro formattino e poi andiamo a fare pubblica. In questo modo le persone riceveranno il messaggio primario dopo l'iscrizione sulla landing page e poi riceveranno tutte le automazioni che noi abbiamo creato, diciamo, in altre aree. Dove sono queste sequenze? Sono in Automation, andiamo a cliccare su Sequence e qui abbiamo tutte le sequenze. Ora naturalmente te la prima volta non avrai nulla, per creare una sequenza basta cliccare su New, gli dai un nome e si aprirà qualcosa come questo, ok? Cioè la possibilità di inserire delle sequenze, che poi vedremo nei prossimi corsi come si compongono e come si fanno, ok? Quindi ritornando un attimo su Grootools, ne abbiamo creato una landing page che può essere modificata tranquillamente, può essere messo, te lo faccio vedere sempre con il nostro, eccolo qui. Quindi quando tu avrai completato queste operazioni avrai creato la landing page, avrai impostato l'immagine, avrai impostato il testo e l'iscrizione. Dopodiché passeremo al passaggio successivo e potrai definire se reindirizzarlo direttamente sulla pagina Thank You, apparirà il primo messaggio che lo trovi sempre in OptinAction. In questo caso io ho creato dei Flow, quindi è già tutto quanto preimpostato, già direttamente da me, per modificarlo basta cliccare su Edit e Setup non ti dà altro che il link che tu puoi promuovere direttamente come landing page. Se ci clicco sopra abbiamo, ecco qui, la nostra landing page è pronta che le persone visualizzano nel momento in cui cliccano tramite Facebook o tramite pubblicità che stai facendo tu. Questa può essere messa veramente da qualsiasi parte. Ma il bello del bot è che ragazzi ha un'apertura incredibile, ha un'apertura di circa, abbiamo l'86% di open rate con il 33% di clic all'interno del messaggio contro il 10-12% della mail e il 3% di clic all'interno del testo della mail. Quindi non ha confronti, però va utilizzato in maniera diversa, non si possono mangiare messaggi giornalieri perché, soprattutto con le ultime restrizioni di Facebook, questa è una cosa che dà molto fastidio, quindi Facebook non la vuole e la blocca. Quindi sarà necessario creare dei messaggi, un giorno sì, un giorno no, comunque dare sempre una pausa di 24 ore tra un messaggio e l'altro e dare sempre, poi ti insegnerò come fare, dare sempre nei messaggi. Adesso te lo faccio vedere velocemente se andiamo sulle automazioni e le sequenze, per esempio. Si apre una sequenza, mi dà il messaggio che io ho creato, gli altri messaggi che le persone possono raggiungere tramite i tasti che io vado a creare, quindi se mi rispondi sì, ok, se mi rispondi no, non mi interessa, eccetera, eccetera, dare sempre la possibilità alle persone di cancellarsi in qualsiasi momento. Quindi mettere sempre alla fine di ogni messaggio, soprattutto quando lo facciamo con il broadcasting, però è bene imparare a farlo anche con le automazioni e quindi eliminare totalmente la possibilità che l'utente segnale a Facebook la tua pagina, perché questo ManyChat è collegato con la tua pagina e potrebbe essere bloccata, quindi non riceverebbero più i messaggi bot. Quindi dare sempre spazio tra un messaggio e l'altro e sempre creare un tasto di cancellazione nel caso la persona non ha interesse a continuare a seguire le tue informazioni, perché il bot è molto rapido, molto veloce, molto potente, però è anche molto fastidioso, se usato male, per gli utenti che ricevono i nostri messaggi, quindi bisogna fare molta attenzione. Ti do appuntamento al prossimo corso, ciao!